buona prima ragazzi siamo tornati in questo nuovo video ragazzi con i miei premi del fu champions division rivals e compagnia cantante come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace seguitemi su twitch in questo momento siamo in live li apriamo sempre in live i premi quindi passate sta in descrizione in più vi ricordo di passare anche da ufo calcio per le vostre magliette tute abbigliamento sportivo col coupon justice e se vi serve l'applicazione migliore per i risultati inizio sul calcio wow football scaricatela dal link in descrizione allora siamo reduci da aver aperto appena un account con premi top 100 del buon di gianni che avrete sicuramente visto nei giorni scorsi sono abbastanza in stato di shock perché in stato di shock non vi spoilerò altro c'è il mio account ragazzi ho i premi di un draft me li fa vedere magari non me li fa vedere più non me li fa vedere per dio devo far vedere che sono forte a giocare ho i premi di un draft vinto i premi dell'edition rivals e premi del food champions speriamo riuscire a beccare qualcosa apriamo in ordine draft rivals food champions e vediamo un po draft online andiamo ad aprire i premi con questa squadretta che era molto carina molto carina molto molto simpatica vediamo un po i premi del draft ma una volta che metà il pacchetto 200 mila draft due pacchetti mega ci posso stare due pacchetti mega ci posso anche stare un pacchetto lo premium e due pacchetti mega dai un bel un bel walk out in interessante dai premi del draft appena volta nella vita mia il migliore che ho trovato dal draft vinto è stato isco disco 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 primo pacchetto del draft vinto vinto vorrei sottolineare vinto ed è non raro perfetto adren silva proprio lui il pacchetto mega riserva mega emozioni lo sanno tutti infatti lo apri e non c'è neanche walk out perfetto neanche bandiera incredibile da non credere da non credere pacchetto mega del draft vinto vinto vorrei specificare che l'ho vinto il draft no perché sennò qualcuno si potrebbe dire ah no non l'hai vinto allora non ti aspettare di trovare no in realtà l'avrei vinto io in realtà però forse murigno che è stato che se n'ha nato costava qualcosa se questo qui lo schippi c'è sicuramente qualcosa è proprio la legge non scritta di fifa 19 vediamo un po è proprio lui è il grandissimo lorenzo incigne e andiamo così era walk out lorenzo incigne va bene perché un draft io mi prendo lorenzo incigne mi vale 40k so contento non ce voleva tanto non ce voleva tanto il primo walk out l'abbiamo trovato nel draft ok continua così esports division rivals io mi prendo i non scambiabili ragazzi perché sono sei pacchetti mega mi devo repullan per club che ho fatto le icone ho fatto le sfide del foot ma non c'ho più niente quindi se abbiamo inoscambiabili ci abbiamo otto pacchetti per d'incipacco e vediamo un po chi troveremo vai iniziamo con i premi delle division rivals e vediamo se saranno altrettanto fortunati come quelli del draft primo pacchetto da 15.000 vabbè da questi non mi aspetto un granché sei pacchetti mega che sarebbero tipo 250k circa insomma una somma di denaro considerevole 200k 210k quindi se ci dai qualcosa perfetto neanche lavagna è sicuramente molto molto carino allora apriamo l'ultimo perché come dice il proverbio il proverbio gli ultimi saranno i primi questo quindi che sicuramente questo è niente infatti avremo il primo al primo e lo devi schippare lo rischippi lo rischippi perché se lo schippi tu non lo schippi e se lo schippi lo schippi craft grande fortissimo justain wow justain esci dal negozio rientrilo e apri quello in mezzo quando ne mancano tre ragazzi il pacchetto leggendario walk out you feel me non è bianca è normale è tedesco è a t è thomas la lavandrice knuller buono per l'SBC ci sto ragazzi un walk out nel draft nei premi del draft un walk out nei premi di vicio raro salmo che non siano due due walk out oh my fucking god è normale ok non è bianca chi è è brasile è cdc è fernandino ok vabbè so due so due so due walk out ci piace ci piace così back to back back to back buono per l'SBC ci dobbiamo rifillare club ce lo rifigliamo ce lo rifigliamo con fernandini girù va bene va bene ci piace gli esports se puoi fare triple back to back sarebbe veramente molto molto carino magari una bella icono scambiabile una busta tipo un litmanen una busta back to back to back io credo nei miracoli ma non è questo il giorno va bene non me posso lamentare un'altra lavagna va bene così ma dammeli tutte le settimane così porco due quaresma 84 se c'è lì fu garantito suck ce lo butti ci siamo premi del food champions dopo queste sculate comunque siamo molto contenti è il momento di andare con i premi premi food champions parliamo di cose serie vai 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 esports vai vai ti prego questi pic ragazzi io li vorrei fare no look sapete che vi dico io li faccio no look tutte e due me prega un cazzo almeno c'è un attimo di brivido in più ma che cazzo me prega tiè no look a sti pacchi de merda primo pic di esports io credo in ti nel curi mio dimmi che questo è il polpiere il polpino il polpetto il polpettone ma cos'è ma cos'è ma cos'è mario cos'è ripia mario cos'è più linkabile vabbè vabbè il secondo lo guardo raga ho capito che qua non esce in caso vai porco il clero però dio mattone sempre gli stessi avers dai tu 80 ma dammi un qualcosa di buono una volta nella vita mia mannaggia il clero qua ci abbiamo un obiettivo vedi questo obiettivo non mi ha fatto per sculare sicuro è colpa sua è tutta colpa tua cazzo pacchi da 100 give me the power walk out è bianca non è bianca che cazzo sta di che è bianca walk out italia dc ti prego la chiella la chiella la chiella la chiella 89 va bene va bene raga la chiella quanto vale chiellini chiellero chiellini 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 quanto vale chiellini cazzo dimmi che c'è qualcun altro vicino 60 57 7000 o bono bono 57000 dimmi che c'è qualcuno vicino sta bono mio cugino un bappè mio cugino mio cugino niente cugino ok non c'è un cazzo vabbè oh chiellini 89 che lo butti abbiamo ancora un pacchetto da 100k io credo in te esports io credo in te dai cazzo non ho trovato niente dei vinc per dio dai cazzo lo devi guardare così ti alzi in piedi manco lavagna nooo summer summer che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo Grazie a tutti.